Grazie Claudio per questa presentazione bellissima dopo la quale mi sento un po' meno in difficoltà a parlare dopo questi economisti, professori che hanno dimostrato a tutti come parlare di economia con competenza dicendo la verità sia l'unico modo per spiegare le cose in maniera comprensibile invece che usare solo formule e formulette, termini inglesi che non capisce nessuno così è più facile prendere in giro. Allora io oggi diversamente da quando sono a Ballerò mi sento in difficoltà a parlare di economia perché lì avere degli economisti di fronte con nomi altisonanti e grandi curriculum che dicono panzane è molto più semplice contraddirli dicendo due cose vere anche senza essere un professore universitario. Oggi se mi mettessi a discutere con loro sicuramente mi farebbero nera quindi evito subito di approfondire temi economici. Quello che ci tengo a dire è che la battaglia contro l'euro è una battaglia non solo per risolvere un problema economico nel nostro paese ma soprattutto io dico anche per risolvere il problema democratico perché come è stato detto benissimo fino adesso l'impostazione dell'euro, dell'eurozona che quindi contraddistingue questa Europa è un'impostazione profondamente antidemocratica che si traduce, si evidenzia nell'aver dato tutti i poteri a degli organi sovranazionali non eletti come la banca centrale europea alla quale abbiamo ceduto la sovranità monetaria in totale spregio delle fondamentali norme della nostra Costituzione perché per inciso la nostra Costituzione all'articolo 1 recita l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, non appartiene ad altri. Quando si fa richiamo l'articolo 11 che ammette delle limitazioni di sovranità concordate ci si dimentica di ricordare che in questo articolo esse sono previste solo per garantire la pace e quindi questo articolo era scritto in previsione di una forza come l'ONU che limitava le iniziative nazionali a dichiarare guerra fine, qualsiasi altra cessione di sovranità non è prevista dalla nostra Carta Costituzionale e quindi anche il sistema che si è instaurato in Italia secondo il quale di fatto non molti lo sanno le norme europee, i trattati prevalgono sulle norme del nostro diritto interno anche qualora confliggenti con la nostra Costituzione è una cosa di una gravità inaudita significa aver veramente bypassato... esatto abbiamo Barra Caracciolo che ringrazio per la sua battaglia di informazione e di denuncia approfondita, ineccepibile contro questo problema che io tento pure di sollevare perché ripeto il problema economico è immenso, lo viviamo tutti però c'è anche un problema democratico e risulta singolare che un partito che si chiama Partito Democratico difenda questo sistema abbia un presidente che dopo aver detto io non andrò mai a governare senza passare per elezioni sia puntualmente lì, il quale fa riforme sul lavoro senza ascoltare i sindacati il quale va avanti svalutando i salari, fa tutta una serie di cose, promette riforme della Costituzione dicendo cambieremo 40 articoli, sempre nel senso di stabilire delle regole sempre più antidemocratiche nelle quali il governo avrà poteri totali, assoluti, in mancanza di contraddittorio e di opposizione instaurando di fatto una Repubblica presidenziale senza l'elezione diretta del Presidente quindi meno male che si chiama Partito Democratico perché se si chiama in un altro modo Dio sa che cosa faceva quindi stiamo attenti a tutte le fregnacce che ci dicono, scusate ma siamo a Roma quindi mi permetto questo termine di chiara comprensione, ogni tanto qualcuno dice la verità anche in maniera inconsapevole, imprevista come diceva appunto Claudio l'altra sera a Ballarò mi sono trovata di fronte la candidata del Partito Europeo dei Verdi la quale davanti alla presidenza della Commissione Europea la quale di fronte alle mie argomentazioni sulla possibili modalità di scioglimento concordato dell'eurozona con una partecipazione attiva della Germania, cosa assolutamente possibile e realistica si è opposta dicendo ma la Germania non potrà mai uscire dall'euro se uscissimo dall'euro la Germania non venderebbe più un solo prodotto perché diventerebbero troppo cari avremmo la disoccupazione, avremmo un calo mostruoso del PIL dopodiché è stata provvidenzialmente interrotta e dicono portata via dentro un sacco nero quindi attenzione io la ringrazio per questo suo atto di consapevole coraggio però quando uno dice la verità escono fuori queste cose quindi continuare a dire come dicono molti, troppi che l'euro non è il problema e che il problema è la casta cricca corruzione o che è il debito pubblico o è che l'euro va gestito diversamente e dobbiamo fare gli euro bond mi sembra veramente una cosa che ormai non dovrebbe più essere neanche ascoltata per un secondo quindi io sottoscrivo tutto quello che è stato detto auspico che così come Mao fece la sua battaglia rivoluzionaria girando la Cina con un libretto e regalando il libretto la stessa cosa che ha fatto Claudio Borghi col suo libretto verde anziché rosso porti il risultato rivoluzionario che auspichiamo per ridare all'Italia una dignità per far capire agli italiani che non siamo noi colpevoli di nulla che la colpa di questa situazione non è nostra e quindi non dobbiamo sopportare ulteriori sacrifici basta chiederci sacrifici l'austerity ci ha massacrato e quindi se la facciano loro ci ridiano la nostra sovranità la nostra libertà e la dignità di essere italiani grazie